Ciao bambini! Oggi andiamo avanti e leggiamo la terza parte della storia di Bubal, perché so che siete curiosi di vedere come ha fatto Bubal a far pascolare tutte le sue pecorelle. Vero? Vediamo se ha utilizzato una delle strategie che gli avete suggerito oppure ne ha trovata qualcun'altra. Ok? Iniziamo a leggere. Però, però, a pensarci bene, un modo per risparmiare tempo c'era. Bastava fare uscire una pecora e un'altra insieme. Così fece, ma mentre loro brucavano felici, si chiese, perché non farne uscire una, un'altra e un'altra ancora? Risparmierei più tempo? In fondo, un gruppetto così è ancora abbastanza piccolo e sono in grado di ricordarne la quantità. Così fece, ma visto che un'idea tira l'altra, proprio come le ciliegie, non si arrestò e decise che poteva addirittura farne uscire una, un'altra, poi un'altra e ancora un'altra. Così fece. Ma pensarci meglio! Poteva farne uscire una, un'altra, poi un'altra, ancora un'altra e un'altra ancora. E non c'era il rischio di fare confusione con tutte queste altre, perché a quel punto le pecore erano tante quante le dita di una mano. Sì, ogni dito una pecora e ogni pecora un dito. Aveva inventato il primo contatore della storia, anzi, se lo era trovato proprio lì, a portata di mano. In ogni istante avrebbe potuto controllare la quantità delle pecore uscite a brucare. Bastava che fossero tante quante le dita della sua mano e quelle, le dita, non potevano certo scappare. Evviva! A turno le pecore uscirono dal recinto a gruppetti pari alle dita di una mano. Brucavano e poi rientravano felici. E ogni volta Bubal faceva sul muro un segno simile a una mano aperta. Così! Alla fine rimase una pecora con un'altra, che uscirono sulle solette a brucare l'ultima erba rimasta. C'era voluto l'intero giorno, ma certamente nessuna pecora si era smarrita. Che fatica, ma che soddisfazione! Quella notte sì che dormirono profondamente. Tutta la grotta risuonava del loro russare e anche Bubal fece il sonno più dolce e ristoratore che avesse mai fatto. Sognò addirittura di giocare a girotondo con tutte le sue pecorelle e cantare con loro a squarciagola. Ma alle prime luci dell'alba, eccola di nuovo sveglia. Un nuovo giorno e tante pecore di nuovo affamate da pascolare. Nel cielo alcune nuvole scure promettevano una pioggia imminente. Oggi avrebbe dovuto sbrigarsi se voleva farle rincasare sazie e asciutte. Ma come fare? A quel punto un'idea illuminò la sua mente, simile a un lampo in piena notte. Come non averci pensato prima! Lei aveva anche un'altra mano. Poteva far uscire contemporaneamente tante pecore quante erano le dita dell'una e dell'altra. Solo in questo modo avrebbe impiegato meno tempo e tenuto tutto sotto controllo. Così fece! E per ogni gruppetto che usciva, Bubal, soddisfatta della sua idea, segnava sul muro della grotta l'immagine delle sue mani, una sotto l'altra, così. Le nuvole avevano trattenuto la pioggia fino a quel momento, ma ora erano diventate così nere da minacciare un diluvio. Per fortuna, il gregge quasi al completo, in breve tempo si era rifocillato. Rimaneva il turno di poche pecore. Passarono le dita di una sola mano per dire quante fossero, oltre alla solita pecorella che usciva insieme a un'altra. Queste ultime ebbero il tempo di farsi una bella scorpacciata di cicoria fresca, mentre Bubal completava il suo capolavoro, tracciando sulla parete un segno simile a un piccolo dito per ciascuna di esse. Così! Bubal ha creato gruppi di pecore tante quante le dita delle sue mani, quindi dieci, lo stesso numero in cui noi abbiamo diviso i regoli e i cotton fioc. Come noi, Bubal, ha scoperto la decina.